La formazione ospite, allenata da Maurizio Semezzato, si presenta a Laurentini con un modulo piuttosto difensivo e assola Camili a sorreggere l'attacco Veneto. Arezzo pressa gli spazi e per una buona mezz'ora non lascia uscire il Marcon dal proprio metà campo. La prima grande occasione del match arriva al 42esimo con Battagliotto che, approfittando di una diagonale sbagliata di Mencucci, caccia tu per tu con Antonelli, bravissimo a respingere con i piedi. Nella ripresa subito un episodio che cambia il match. Al dodicesimo Mencucci stende in area di rigore Battagliotto, per il direttore di gara non ci sono dubbi a segnare il caccio di rigore al Marcon. Sul dischetto si porta Stefanello, conclusione centrale e vantaggio ospite. La scuola di casa reagisce e trova subito la rete del pareggio grazie a una grandissima azione di Di Fiore. Al quindicesimo si invola sulla fascia destra, salta Sabadini di velocità e crossa al centro. Sul traversione si fionda Mattiacic da 0 metri di sigla, la più facile delle reti. L'ultima occasione capita al Marcon a 10 minuti di alto termine quando Stefanello, su caccia e punizione dal limite, colpisce una clamorosa attraversa e l'Antonelli battuta. Buon punto per l'Arezzo che porta a due la striscia utile dei risultati consecutivi dopo la vittoria con il Pescara. Con i sei punti conquistati la classifica inizia a sorridere la squadra di Manuela Tesse che domenica prossima avrà il compito di dare continuità ai risultati contro l'Udinese. Manuela, quest'oggi è una gran prova di carattere della squadra, finalmente si iniziano a vedere anche le trami di gioco. Un buon punto poteva essere anche di più probabilmente. Sì, assolutamente, abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo sofferto soltanto negli ultimi cinque minuti finali del primo tempo, poi logicamente ci sono anche gli avversari, siamo calati un pochettino, anche perché il campo è molto pesante, le trame di gioco sì ci sono, però non sono neanche efficaci per quanto riguarda il campo, è molto difficile giocare qui per noi, però sono molto soddisfatta, sapevamo che potevamo giocarcela alla pari contro il Marcon, nonostante fosse secondo o terzo in classifica, ma noi dobbiamo continuare così e i miglioramenti si vedranno. Ecco, anche una grande reazione dopo il gol subito, subito dopo tre minuti ci ha fatto il pareggio, quindi la squadra ha dimostrato anche di saper reagire in modo veloce. Sì, anche perché le ragazze iniziano a crederci, hanno visto che hanno giocato benissimo il primo tempo, mancato soltanto il gol e quindi sarebbe stata una beffa finire con una sconfitta, hanno reagito tantissimo e hanno sofferto, è così che si gioca, si gioca di squadra, bisogna faticare anche sudore. Siamo qui con Mattiaccio, l'Arezzo quest'oggi ha ottenuto un gran punto, ma si poteva arrivare anche alla vittoria, vedendo come ha giocato la squadra. Sì, noi abbiamo fatto molto più di loro, comunque, loro hanno fatto poco e niente e noi invece abbiamo esso, che è la grinta, che d'altronde la testa ci chiede sempre ogni partita. Oggi è arrivata anche a prima rete stagionale, quindi è una gloria anche personale. Sì, no, questa la dedico a tutte le mie compagne e soprattutto alla mister che comunque mi manda in campo, nonostante l'età, quindi va bene.